Piazza Maggiore, monumentale e illusoria come una scenografia teatrale, è circondata su ogni lato dagli edifici plurisecolari che di Bologna hanno scritto la storia. Fulcro visivo della piazza, una delle più spettacolari d'Italia, è la Basilica di San Petronio, quasi intimidatoria in virtù di quella facciata scura mai ultimata, resa ancora più maestosa dalla piattaforma a gradini che, innalzandola, sembra accentuarne la mole. In una sorta di dialogo fra potenza e la pari, la fronteggia il Palazzo del Podestà, che insieme al vicino palazzo comunale fungeva da sede del potere municipale. Sugli altri due lati della piazza prospettano da una parte il Palazzo dei Notai e dall'altra il Palazzo dei Banchi o del Pavaglione. Il primo fu eretto alla fine del Trecento, inglobando un gruppo di edifici preesistenti, e fu poi interamente ricostruito nel 1908. Il secondo deriva il suo nome dalla tenda o padiglione, che in origine veniva utilizzata per riparare le operazioni dei cambiavalute e dei banchieri. Eretto tra il 1565 e il 1568 su disegno del Vignola, il palazzo non è altro che un lungo porticato, creato in funzione prospettica per regolarizzare il fronte orientale dell'area. La piazza fu aperta nei primissimi anni del Duecento in seguito all'abbattimento di un'intera quadra della città romana. L'assetto attuale risale, però, alla prima metà del Quattrocento. Interamente incotto e arenaria, la sua architettura ardita e fantastica, come amava definirla Giosuè Carducci, è la fulgida testimonianza dello splendore raggiunto da Bologna nel pieno dell'età comunale.